Interpretare i segnali del cervello umano, riducendo i tempi di reazione e migliorando l'esperienza di chi guida, è quanto fa la tecnologia Nissan Brain to Vehicle, presentata dalla casa automobilistica al CS 2018, la fiera della tecnologia consumer di Las Vegas. Una tecnologia che ridefinisce l'integrazione tra persone e automobili e rientra nella visione della mobilità del futuro di Nissan, con più autonomia, elettrificazione e connettività. Tecnologia made in Italy per il satellite coreano CompSat 7. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha siglato un nuovo contratto con il CARI, l'Istituto di Ricerca Aerospaziale Coreano, per la fornitura di un sistema di comunicazione in banda X per il satellite numero 7 del programma CompSat, che prevede un lancio nel 2021 con un'aspettativa di vita di 5 anni. Il CompSat 7 è un satellite multifunzione, aggiornamento del CompSat 3A di queste immagini, con la missione di osservare la Terra dall'orbita bassa, sviluppato dal CARI per fornire immagini satellitari ad alta risoluzione, al fine di soddisfare le esigenze nazionali della Corea del Sud. Unire gioco, salute e sicurezza in un orologio smart che invoglie i bambini a fare sport e a stare all'aria aperta, scongiurando il rischio di sovrappeso e obesità. Si chiama Team 8, l'idea di una start-up francese presentata al CS 2018 di Las Vegas. Stefan Dokur è il fondatore. I bambini creano un proprio supereroe scegliendo nome, costume e superpoteri e possono giocare immedesimandosi, ma per farlo il personaggio deve ricaricare la sua energia.